Perché avete voluto lanciare questa raccolta firme per chiedere le dimissioni dell'assessore Spirli? Intanto la premessa è che non verrà utilizzato mai da parte mia il signor Spirli come mezzo per attaccare una parte politica, come veicolo politico, perché non mi interessa la politica, non mi occupo di politica. Dico solo che un assessore regionale con delega alla cultura e nonché vicepresidente della giunta regionale che non conosce una buona parte o si dimentica una buona fetta della regione che deve governare sia assolutamente inadeguato. Nell'intervista è stato molto chiaro, Crotone fa parte della Calabria quindi non ha nessuna intenzione di dimenticarla? Certo, noi ringraziamo il signor Spirli per la lezione di geografia che ci ha dato, lo sappiamo benissimo che Crotone fa parte della Calabria, dovrebbe ricordarlo lui in realtà, dovrebbe ricordarlo lui quando parla di mete da visitare, di cultura e di civiltà e soprattutto quando parla di Magna Grecia. Io non credo più nelle sviste, non credo più nell'ignoranza perché non è una coincidenza che si parla di turismo e non si cita Crotone, si parla di sviluppo e non si cita Crotone, si parla di politica e non si cita Crotone, si parla di fondi e non si cita Crotone, per me è una premeditazione. Stare sul fiato, su questo assessore appena insediato non è un po' già troppo forte? Fossero anche due giorni, noi non abbiamo più tempo perché ne abbiamo perso anche troppo, non possiamo permetterci più questo tipo di mancanze perché questo territorio proprio per attendere, 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 delegare e aspettare è sprofondato in questo degrado socio, politico e culturale. Non abbiamo più tempo, potevano anche essere passati due giorni dal suo insediamento. Per noi è una gravissima mancanza, insisto, deve dimettersi.